Queen of Taste 2021 nella più bella piazza delle Dolomiti a Cortina d'Ampezzo Dietro di me un esercito di chef che stanno preparando un pranzo che mangeremo qui in questo luogo in questa piazza insieme ai vini del consorzio della Valpolicella Stiamo per iniziare Il menù di oggi è curato in primis dai cuochi del team di Cortina d'Ampezzo che si occuperanno dell'aperitivo e poi ci saranno 5 cuochi d'eccezione del Triveneto bravissimi che cureranno il resto del menù Ci porteranno attraverso un viaggio che andrà dal mare alla montagna e culminerà in un dolce in un grande tripudio di qualità È un orgoglio avere qui a Cortina questi chef importanti e questa è anche l'occasione per suggellare con lo chef team Cortina la collaborazione con il consorzio dei vini della Valpolicella Questa collaborazione importante ci porterà fino alle Olimpiadi del 2026 Il consorzio di tutela vini della Valpolicella è voluto essere presente in questo evento meraviglioso a Cortina Connubio ottimi vini della Valpolicella e del Veneto con i grandi chef stellati e non della valle di Cortina Un primo inizio che proseguirà sicuramente nei prossimi anni fino ad arrivare alle Olimpiadi di Milano-Cortina Grazie! Grazie! Grazie